Cari amici di Auto Occasioni, un altro appuntamento speciale per voi, quest'oggi direttamente da Moncaglieri, Corso Savona 30, l'indirizzo della nuovissima sede Centro Divisione Auto Torino 1, che appunto fa parte da pochissimo delle grandi concessionarie Torino 1. Io sono accolta piacevolmente da lui Alessandro Cotto, bentrovato. Grazie, buongiorno Palma, buongiorno a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Un'altra sede per voi, non solo vendita naturalmente anche servizio, dove trovare non solo autovetture nuove in pronta consegna con tantissime campagne promozionali per voi, ma soprattutto l'usato. Un usato d'eccellenza, la puntata, verterà proprio sulle vetture d'occasione tanti nuovi arrivi. Esattamente, oggi abbiamo selezionato per voi auto fresche, auto in garanzia, auto con pochissimi chilometri, ideali a tutta la famiglia, ma andiamo subito a scoprirle. Cominciamo con una bellissima Ford Fiesta auto GPL del 2020 con 30.000 chilometri, ideale anche per i neopatentati. Toyota Yaris, 1000 benzina, auto addirittura con 10.000 chilometri a 14.900, pensate del 2019 ancora in garanzia a casa madre. Fiat Panda in allestimento Lounge, auto con pochissimi chilometri, 30.000, del 2017 dicembre a 10.900 euro. Volkswagen T-Rocca auto del 2020, benzina con 20.000 chilometri, venite a scoprire il prezzo, questo mese è veramente speciale. Lancia Y12 benzina, ideale sempre per i neopatentati, 2017 con 60.000 chilometri. Continuiamo con un Ford C-Max, auto spaziosa, ideale per una famiglia numerosa, benzina del 2016 euro 6 con 80.000 chilometri. Jeep Compass del 2018 con 60.000 chilometri, auto di cilindrata 2.000, multijet, 4 ruote motrici. E per questo mese venite a trovarci, perché abbiamo delle sorprese per voi, a cominciare dai 500 euro di sconto. E se cercate una vettura nuova, chilometri zero, mai andata su strada, pensate ad andare a risparmiare sui 4.000 euro del prezzo di listino. Toyota RAV4 in disponibilità full hybrid, Toyota CHR sempre per quanto riguarda il full hybrid e non solo, abbiamo tantissime Yaris, tantissime vetture aziendali, chilometri zero. Venite a trovarci. Molto bene amici, venite a scoprire il resto dell'assortimento e soprattutto delle opportunità firmate. Centro divisione auto Torino 1 a Moncalieri in corso Savona 30, ma non c'è solo questa sede a disposizione sul nostro territorio, dove potrete andare a cercare, scegliere ed acquistare la vostra auto. Ricordiamo con Alessandro le altre sedi. Ben detto, compriamo tutta Torino, ci trovate in corso Orbassano 472, in corso Giambone con la sede principale al numero 33, in corso Ferruccia al numero 24 e in via Resromoli 472 barra B e non solo, siamo anche a Collegno in corso Francia 138. Grazie Palma e grazie a tutti voi. Grazie naturalmente a te Alessandro Cotto per la tua disponibilità e vi aspettiamo numerosissimi in corso Savona 30 a Moncalieri. Grazie a tutti, alla prossima.